Operazione Ferragosto sicuro a garantire la sicurezza dei nissegni e di coloro che si allontaneranno da Caltanissetta per qualche giorno saranno le forze dell'ordine che vigileranno giorno e notte il territorio. Controlli a tappeto dunque per contrastare la minaccia del terrorismo dopo gli ultimi attentati in Europa e i reati di maggiore allarme sociale, quali furti, truffa ad anziani, rapine e lo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre ad altri reati contro la persona in patrimonio. Si è fatta una valutazione complessiva per tutte queste minacce che si sono accentuate in questi ultimi tempi e sono stati intensificati i servizi sia per quanto riguarda le manifestazioni pubbliche in cui ci sono assembramenti di persone, sia i servizi sul territorio per tutti gli obiettivi sensibili. È stata una valutazione assunta in serie di comitato, quindi concorrono tutte le forze di polizia e lo si è potuto notare anche nella recente attività che è stata fatta in piazza per il ferragosto, sostanzialmente per le iniziative agostane della città, in cui è stata isolata completamente la zona, soprattutto poi fatti d'inizio, queste sono le indicazioni che arrivano sul territorio, per dare più tranquillità e più sicurezza alle persone che partecipano a questi eventi. Questa è stata la priorità che in questa fase si è voluto adottare. Chiaro che questo comporta un'implementazione di risorse notevoli e ci sta facendo fare un extra impegno, devo dire, molto importante. Chiudere sempre la porta chiave, sensibilizzare i vicini affinché ci sia reciproca attenzione ai rumori sospetti sul pianerottolo appartamento, non fare sapere ad estranei programmi di viaggi e vacanze, evitare l'accumularsi di poste e pubblicità, questi alcuni consigli per scongiorare spiacevoli sorprese al ritorno. Non siete soli, chiamateci sempre, è invece lo slogan della nuova campagna contro le truffe agli anziani. È un'iniziativa a livello nazionale, una sensibilizzazione soprattutto per ciò che attiene le truffe, i furti, le rapine in danno di persone anziane o comunque di soggetti un po' più deboli. È una sorta di, vedeme, come un catalogo comportamentale che mette in evidenza quali sono i modus operandi, diciamo, i modus operandi più comuni di questo tipo di truffatori e tutta una serie di accorgimenti da parte delle persone anziane da mettere in atto e quindi per evitare questa forma odiosa di reato.